Buongiorno a tutti! Buongiorno! Oggi è? Oggi è 11 E quindi sono? Sono... 8 mesi di matrimonio! 8 mesi! Andiamo a festeggiare, non vi sveliamo niente! Ciao! 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 Ma dove vai? Eh oggi andiamo in un posto importante che ci aspetta tanto tempo Finalmente ci siamo debiti ad andarci In una bellissima giornata tra l'altro In una giornata più bella Siamo fortunati Sì, molto fortunati Perché oggi che giorno è amore? Non c'è 11, 11 marzo Il nostro 8 mesi di matrimonio Che sarebbe? Eh! Che sarebbe anniversario Ci arriveremo Adesso mesi di matrimonio con questo bel sole Sì Siamo per andare a un posto speciale Sì, ma non vi sveliamo ancora niente Facciamo vedere tra poco Si Stiamo arrivando La verete quel fumo lì Sulla cima del palazzo? E' lì che stiamo andando Stiamo andando là? Si Buongiorno 17 Sì All'ultimo piano Lui c'è la fuoco Sì Entrato negli spolitoi Numero 20 Cambio E esco Ciao Allora come avete l'avrete capito Siamo ad una spa Bellissima Che ci è stata regalata da I nostri amici spagnoli Grazie ragazzi Grazie Facciamo vedere la vista Sì Non so se si vede Grazie a tutti. Non ci vediamo niente, ecco siamo qua. Sì, non vede così. Ecco, ci si vede. Ecco, l'ho appena chiesto il massaggio. Adesso siamo nel bagno gruppo. Non lo so, c'è il bagno di vapore. Il bagno di vapore, un po' di vapore, effetti. Abbiamo questa luce di pomparparatori. E' un passaggio un'ora molto bella. Molto bello, ragazzi, rilassantissimo. Stiamo entrando nella sala. Spicco Alessandro. Che apre. Non si vede, non ho quasi può parlare. Sì. Abbiamo uscita la sauna. In cambio. È faticosa, è faticosa. È troppo. Andiamo prendendo un po' una vittima scala. Sì, ce ne buttiamo un po' adesso. Ciao. Ciao. Ecco, siamo adesso usciti allo scoperto. C'è la neve. Che bello. Siamo all'esterno, con la neve. Facciamo vedere. Guarda, qua c'è la caccinata. Aspetta, facciamo in più. Guarda, c'è la caccinata. Cascata. Com'è? No, Alessandro, è ghiacciata. È ghiacciata? È ghiacciata. Quindi qua è ghiacciata. È calda, io mi butto perché è calda. Vai. La neve, dopo ci devo buttare sulla neve. Dopo ti devi buttare sulla neve. Vedete la neve. Com'è? Ma il bollente. È bellissimo. Arrivo, va? Grazie a tutti. Se non stai nell'acqua, fa molto freddo. Fa meno 2 gradi. Allora, vi spieghiamo un po' perché siamo qua. Questo è stato un regalo dei nostri amici spagnoli che quando ci sono venuti al nostro matrimonio ci hanno regalato questa spa qui a Quebec. Una bellissima idea che abbiamo apprezzato e oggi veramente ragazzi ce la stiamo godendo. Adesso sputtiamo nella neve, eh? Sì. Non cambiate canale. No. Nemmeno video. No. Ciao. 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 Una fotografa in azione. Che cosa sono? Mi chiuso a chiamare il stile, amore mio. Su chi? Su bene il mio stile. Si può stile. Ma è nato. Su bene. Un giro alla stanza nel senso lo dobbiamo fare. Troppo un po' di mezzo da ride. Ma non posso parlare con l'ansia. Adesso sto entrando nella stanza del silenzio. Quella che stanza era? Quella era la stanza del silenzio. Ma che sono nominata Pennica. Non è stata Pennica. Si può. Ma adesso sta iniziando a nominare il gare e quindi ce ne andiamo. No. Stacchi. Se ne va a fare la Pennica. Andiamo a montare un pozzo di pizza. E poi bene. Sì. Ciao. Speriamo che questo vlog vi sia piaciuto. E lasciate un like. E le due foto sono sui nostri profili Instagram. Che sono andate a guardare. Andate a guardare. Che so. Parla in inglese lei. Andate a guardare un sito di Instagram. Con le foto. Con le video like. Iniziamo a seguirci. E se non c'è ancora inizia il nostro canale. Iscrivete. 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 Lasciamo il link della spazio. Il suo bellissimo posto. Qui sotto. E fate i bravi. Ciao. 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 Ciao.